Abbandonati tranquillamente, rilassati. Adesso io toccherò il tuo corpo e il tuo corpo diventerà duro e rigido. Duro e rigido, una statua. Portate le sedie. Sul tavolo cosa? C'è un tavolo. No, vuole le sedie. Posso portare le sedie? Dura e rigida, completamente dura e rigida. Vieni Giacomo. Aiutate Giuseppe per piacere. C'è Giuseppe in studio? Oh, la rivolgiamo però. Allora, dura e rigida, completamente dura e rigida. Una statua. Vieni, vieni, vieni. No, no, no. Oh, famo catturata. Dura, rigida. La prendi sotto le gambe, bravo Aldo. Dura e rigida, dura, dura. Una statua, tu sei una statua. Completamente dura e rigida. Rigida. Dura. Una statua. Il tuo corpo si spezza ma non si piega. Vieni Aldo. Dove sei? Aldo? Vieni, vieni, vieni. Completamente dura e rigida. no, 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 no. La vuoi azzardare. No, dai, io le voglio bene, alla fine le voglio bene. Dura e rigida. No, 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 no. Oddio, oddio, oddio. Signori, è incredibile ma vero? No, no, no. Grazie.